Il Paradiso, Anticipazioni 18-22-11, Matteo si licenzia, Elvira in visita dal ginecologo. L'anteprima della puntata del Paradisi delle donne, andata in onda dal 18 al 22 novembre, mostra Matteo che lascia il lavoro e va a Parigi per cercare di ricucire il rapporto con la fidanzata Maria C. Ma prima deve confrontarsi con la famiglia Puglissi, che rimane scioccata nello scoprire la verità sulla truffa offer. Preoccupata per qualche malore improvviso, Elvira segue il consiglio dell'amica Mirella e si prepara a visitare per la prima volta un ginecologo per scoprire se è davvero incinta. Matteo si arrende, anteprima di The Ladies Paradise dal 18 al 22 novembre Questo sarà uno dei momenti più difficili della vita di Matteo. Dopo aver rivelato a Maria la verità sulla truffa offer, la ragazza mette in dubbio la loro storia d'amore e il ragioniere rimane inorridito. Vuole trasferirsi a Parigi per un po' per riconquistare la fiducia dello stilista ed evitare di rovinare il suo matrimonio. Temerà di perderla per sempre e lascerà il paradiso. Prima di partire, Matteo ha intenzione di affrontare la famiglia Puglissi e di dire loro la verità sul caso offer. La storia di Matteo sorprende Ciro e Concetta, che non riescono a nascondere il loro disappunto nei confronti del ragazzo. Elvira va dal ginecologo Elvira è sempre più preoccupata per la sua recente malattia, soprattutto dopo aver appreso che potrebbe essere collegata alla sua gravidanza. Venus decide di seguire il consiglio di Mirella e di fissare una visita da un ginecologo per chiarire i suoi dubbi. Intanto Salvatore nota in Elvira una certa freddezza. Non sapendo che la ragazza ha paura della possibilità di una gravidanza, si preoccupa che la loro relazione sia già in crisi. Elvira si ribellò alla famiglia e rimase con Salvatore amato nelle puntate precedenti della SOAP. Elvira si ribellava alla sua famiglia per perseguire una storia d'amore con Salvatore. Venus non era d'accordo con suo padre, che era assolutamente contrario a uscire con un ragazzo del Sud Italia a causa del suo odio per i meridionali. Una prova d'amore prezioso da parte di Elvira. Elvira è andata al suo primo appuntamento con un giovane barista della caffetteria Amato ed è stata felicissima di questa nuova relazione, che l'ha fatta sorridere di nuovo.